Ciao da Avsim! Come gioca il sassuolo di Roberto De Zerbi che dobbiamo noi Juventus affrontare domani, domenica 1 dicembre alle 12.30? Sicuramente è una squadra che gioca molto bene dal punto di vista estetico e dal punto di vista qualitativo. Ma già un primo dato ci dà la dimensione di questo sassuolo in questa Serie A, in questa stagione e ci dà secondo me anche la dimensione di quelli che sono i limiti dello stesso Roberto De Zerbi che lui stesso appunto deve secondo me provare a risolvere, a superare prima di poter migliorare le sue squadre. Cioè è De Zerbi che ha dei limiti nel suo modo di allenare che poi si riverberano sulle squadre che allena. E il primo dato che appunto vi dicevo è il numero di gol fatti e il numero di gol subiti. Cioè il sassuolo in questa Serie A con 13 partite giocate e 13 punti conquistati, 14esima in Serie A è terzo il sassuolo per gol subiti ed è settimo per gol fatti. E chiaramente non c'è virtù in questo, non c'è equilibrio 22 gol fatti e 23 subiti quindi tra l'altro una media, una differenza di negativa di meno uno significa che il sassuolo prende troppi gol, scusatevi, segna abbastanza perché segna tanto insomma per essere 14esimo, avere il settimo miglior attacco è una cosa positiva ma ha anche la terza peggior difesa. Questo è sicuramente il primo dato allarmante di questo sassuolo significativo per quanto riguarda l'andamento di questa squadra e i difetti da eventualmente correggere. Parliamo comunque di una squadra molto tecnica. Possesso palla medio 55,2 per una squadra di bassa classifica significa che è comunque una squadra che pur non facendo risultato impone il proprio gioco. Contra l'altro una grandissima precisione. Mi ha colpito molto il dato sulla precisione media dei passaggi del sassuolo 86,1 perché si vedono squadre in Italia come in Europa che hanno risultati migliori, che hanno classifiche migliori ma dati inferiori per quanto riguarda questo appunto la precisione dei passaggi. Male il sassuolo sui due LR non è assolutamente un pregio di questa squadra, anzi è un difetto. Perdono con grande facilità i due LR e infatti ne vanno a fare solo 10,7 a partita. La metà di molte squadre che vediamo anche nel campionato italiano. Come vi dicevo la fase difensiva ha sicuramente da migliorare, ben 12 tiri subiti a partita sono dei pericoli eccessivi. Per quanto riguarda l'aspetto del recupero del pallone e dell'aggressività fanno registrare 14,9 contrasti che è un buon dato, così come gli intercetti 10,1 mi pare un dato significativo evidentemente di una squadra che è tatticamente ben messa, che quindi ha un ottimo posizionamento in campo individuale perché c'è molto individualismo anche in questo sassuolo di Roberto De Zerbi ma anche comunque come squadra, come dinamica di squadra riesce anche a gestire bene l'aggressività e quindi la fase di difesa attiva con questo tipo di dati che ce lo confermano. Per quanto riguarda la fase d'attacco 14,3 tiri a partita di cui però soltanto 4,8 in porta, in sé per sé quasi 5 tiri in porta a partita non sono pochi però se ne fai quasi 15 totali e 6 diciamo che comunque sono un po' oltre, diciamo che sono oltre il 30%, questo è vero di rapporto tiri in porta su tiri totali che è diciamo un po' la media delle squadre di serie A e comunque di squadre buone però secondo me per la tecnica che hanno potrebbero anche fare più tiri in porta. Molto importante, significativo il dato sui dribbling, 11,7 e da qui partirei per parlarvi dei giocatori migliori poi vediamo quali sono le altre caratteristiche perché c'è questo Bogà 22enne, grande scoperta di questo sassuolo e di De Zerbi che sta veramente ammazzando le statistiche perché è balzato in testa alla classifica di serie A per maggior numero di dribbling a partita con 3,6 un'enormità e gli abbiamo visto fare anche gol pazzeschi a Bogà e comunque giocate molto molto significative ed è tra l'altro un giocatore anti-sassuolo Bogà perché è un giocatore che ama entrare in area di rigore e dopo vediamo che invece non è la peculiarità del sassuolo altri giocatori di rilievo sicuramente Ciccio Caputo 2,5 tiri a partita è il migliore in questo dato anzi no scusatemi, il migliore è Berardi con 4,3 tiri a partita poi c'è Caputo 2,5 è comunque un dato significativo Berardi che non ci sarà contro la Juventus in quanto infortunato probabilmente non ci sarà neanche Muriel altro giocatore importante del reparto d'attacco quindi vediamo dopo come potrebbe schierarsi la squadra di De Zerbi giocatori importanti Muldur il migliore per quanto riguarda i contrasti 2,7 ma non è il terzino destro titolare Santos e in generale un po' tutti i difensori compreso anche Kiriches sono i migliori per quanto riguarda la precisione dei passaggi addirittura 94,9 Santos 94,2 Kiriches dati impressionanti Kiriches è anche il migliore per quanto riguarda gli intercetti 1,8 poi abbiamo Magnanelli che invece si distingue in negativo essendo il peggiore sui dribbling subiti 1,5 molto bene Locatelli con 2 ki passes e 0,4 filtranti a partita è un dato irreale non ho visto nessuna squadra avere giocatori fare filtranti con tale frequenza con tale frequenza e Berardi ha lo stesso numero sui filtranti 0,4 ma 1,8 ki passes quindi un po' in meno rispetto a Locatelli allora veniamo allo schieramento in campo alle dinamiche principali alle caratteristiche tattiche di questo Sassuolo il Sassuolo principalmente gioca con il 4-3-3 ma c'è anche l'alternativa 4-3-1-2 vista poco ma che potrebbe essere la soluzione scelta da De Zerbi domani in quel caso quando ha giocato con il 4-3-1-2 talvolta c'è stato Hamed Junior Traoré giocatore molto molto interessante anche l'anno scorso all'Empoli trequartista io credo che potrebbe esserci di nuovo questa ipotesi in alternativa vista appunto l'assenza contemporanea di Berardi e Muriel e nessuno ha mai giocato esterno destro al posto di Berardi fin qui nel Sassuolo cioè lì o c'è Berardi o c'è Berardi potrebbe esserci eventualmente un avanzamento di Giuricic in quel ruolo ma sarebbe un 4-3-3 non esatto insomma con un giocatore adattato perché Giuricic non è un esterno d'attacco è un centrocampista quindi De Zerbi potrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con a questo punto in attacco naturalmente Caputo e Bogà un attacco anche in questo caso un po' asimmetrico ma potrebbe essere una soluzione e vi dicevo il discorso di entrare in area di rigore perché è molto curioso il fatto che i tiri effettuati dal Sassuolo sono 4% in area piccola 43% nell'area tutta considerata e 53% da fuori area è un dato anomalo perché la stragrande maggioranza delle squadre fanno la maggior parte dei tiri dentro l'area è chiaro che 43% o meglio no scusatemi proprio così 43% e 4% sono 47% quindi diciamo che siamo quasi su un piano di uguaglianza ma normalmente c'è proprio la minor parte la minoranza dei tiri effettuati da fuori area quindi il Sassuolo ha proprio la strategia di tirare da fuori area di non andare ad occupare specificamente l'area di rigore ma sono molto molto importanti i filtranti i filtranti da parte del Sassuolo sono proprio un'arma in uno al gioco corto palleggio corto grande rete di passaggi fitta rete di passaggi possesso palla e una preponderanza di giocate individuali parlando anche di distribuzione di gioco c'è un grandissimo equilibrio da parte del Sassuolo perché in senso orizzontale non c'è una grossa differenza tra le fasce 35 a sinistra 32 al centro 33 a destra e non c'è nessuna differenza tra terzo difensivo e terzo offensivo 28% e 28% di tocchi di palla e quindi nel terzo centrale naturalmente per differenza ci sarà c'è il 45% per quanto riguarda invece dicevo la parte diciamo della vulnerabilità del Sassuolo i dati dicono che subisce molti più tiri da sinistra quindi è più vulnerabile sulla fascia sinistra sulla loro fascia sinistra dove c'è Peluso titolare, terzino sinistro titolare e sono anche molto facilmente penetrabili in area di rigore cioè loro non entrano facilmente in area di rigore e scelgono di non farlo proprio hanno questo modo di giocare con grande frequenza di tiri da lontano però in termini di fase difensiva subiscono invece l'ingresso in area da parte delle squadre avversarie in chiusura gli XG ci dicono fondamentalmente che sui piazzati il Sassuolo è sia abbastanza pericoloso sia molto vulnerabile cioè il numero più alto di XG per tiro cioè la più alta pericolosità dei tiri subiti dal Sassuolo si registra significativamente sui calci piazzati tutti considerati questi quindi sono i pregi e i difetti del Sassuolo di De Zerbi ad oggi, ad oggi 30 novembre in vista di domani, primo dicembre partita Juventus-Sassuolo all'Allianz Stadium ditemi come la pensate naturalmente come vi ho scritto anche in descrizione i dati che ho raccolto sono fonte who scored quindi tutto tratto da lì ditemi come la pensate su questo Sassuolo quanto pericoloso può essere per la Juventus e in che cosa invece la Juventus può avvantaggiarsi nei confronti del Sassuolo viste le sue caratteristiche grazie per l'attenzione like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti Grazie a tutti.